Sì, è già a dormire, va bene, volevo chiedere quali sono le sue sensazioni, gli avrei chiesto ovviamente alla pia di campionato, non ho potuto sentirla, ma quali sono le sue sensazioni? Lei è una stagione come quella del... Ce l'ha i miei numeri, no? Eh, eh, quello... Devo ripassare se ce l'ho. Quali sono le sue sensazioni? Gli avrei chiesto ovviamente alla pia di campionato, ma non ho potuto sentirla, ma quali sono le sue sensazioni? Lei è una stagione come quella del... Ce l'ha i miei numeri, no? Eh, eh, quello... Devo ripassare se ce l'ho. Ce l'ha i miei numeri, no? Eh, eh, quello... Devo ripassare se ce l'ho. Quali sono le sue situazioni? Nel